Buongiorno, buon lunedì mattina, iniziamo insieme questa settimana, questa nuova settimana, un'altra settimana insieme a occhio ai giornali, appuntamento mattutino e quotidiano con i giornali e la carta stampata a quelli che troveremo in edicola. Naturalmente prima di iniziare a sfogliarli, nell'edizione del lunedì, quindi un'edizione con una fogliazione limitata, guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi, lunedì 8 giugno, San Merardo Vescovo, il sole è sorto alle 5.26 e tramonterà alle 20.48. Vedete che le giornate si stanno pian piano allungando, minuto dopo minuto e anche le temperature si inalzano perché già a quest'ora partiamo da ben 20 gradi e passa e il cielo, come vedete dalla nostra webcam, si prospetta libero e sgombro da nubi. Vediamo quale sarà l'evoluzione nelle prossime ore per quello che riguarda appunto oggi. Il cielo sarà sereno e poco nuvoloso con transito di velatura e debole attività cumuliformi, però soltanto sui rilievi, vedete, insomma, previsioni rispettate anche quelle che abbiamo visto sabato mattina e le precipitazioni non ci sono, però su tutta la costa un bel sole. Domani però ci sarà un'inversione di tendenza, cambierà un po', vedete, c'è un'intensificazione della nuvolosità anche sulla parte centro-meridionale della regione Marche e ci sarà un'intensificazione di nuvolosità, però il cielo permane sereno, poco nuvoloso, senza nessuna precipitazione. Vediamo qual è l'evoluzione per i giorni successivi. L'alta pressione continuerà a garantire cielo prevalentemente sereno anche per il resto della settimana e quindi questo è dal punto di vista meteorologico. Vediamo dal punto di vista invece delle notizie che cosa ci prospettano i quotidiani in questa giornata, in questo lunedì partiamo da Pesaro per il messaggero, ruspa in spiaggia, è un rebus, c'è una spiaggia bloccata alla foce del Genica, probabilmente in piena spiaggia a Pesaro sul lungomare e è un rebus su come fare a portarla via, il mezzo è bloccato dopo tutti i tentativi andati a vuoto. Fotonotizia per l'arma Iventus Fano che è dettata di insaziabilità dal punto di vista dell'appetito calcistico, nuovo Tris e poi uomo sui binari, scatta l'allarme ma non voleva soltanto andare al mare, si è verificato ieri mattina lungo la tratta paralela dell'Adriatico nei pressi di Fano, c'è stato un attraversamento improvviso per evitare di fare i sottopassi angusti, però insomma è una manovra pericolosissima e quindi assolutamente da evitare. Poi intrappolato nel fango del canale, salvato nella notte dopo ore, è successo a Tavuglia, la vedremo dopo all'interno questa notizia, è appunto la task force per il messaggero che dice appunto che la USPA si proverà a rimuoverla questa mattina dalla foce del genico, ma l'intervento non si preannuncia semplice, vedete nella foto, insomma semi affondata, proprio per cercare di dragare questo punto un po' così critico del litorale pesarese, però è rimasta impantanata e tirarla via, visto il peso non è facile, prima si incontreranno in comune i rappresentanti degli alberghi e della ditta che ha rifatto il ripasciamento. E poi buone notizie per il momento ancora sulla carta perché non è, si aspetta l'ok definitivo, l'Italo, l'alta velocità quindi ritorna a Pesaro, quindi grandi vantaggi e ripercussioni positive anche eventualmente per tutti coloro che proveniranno dall'export perché il 15 dicembre c'è stato un sit-in di protesta e quindi insomma la cosa non era gradita né ai pendolari e neanche agli amministratori locali e insomma dovrebbe concretizzarsi anche se soltanto nel periodo concentrandici, soltanto nel periodo enegragico di luglio-agosto questa fermata, però con positive ripercussioni, lo sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Pesaro. Allora vediamo l'ultima pagina che riguarda il messaggero di Pesaro e provincia, vi dicevo la fogliazione nel lunedì mattina è un po' diversa dal resto della settimana, mobile pesarese, si parla di economia e quindi di commercio, vuole scommettere il comparto del mobile pesarese che è sempre stato un motore trainante per l'economia provinciale, vuole smettere sulla Bielorussia, le tensioni tra Ucraina e Russia hanno fatto scoprire un nuovo mercato, missione al Salone di Minsk, un salone che si prospetta estremamente interessante per le nostre aziende provinciali. È un piccolo paese ma ha grandi potenzialità e in forte crescita quindi per Camera di Commercio e quant'altro è un'opportunità per le imprese che soffrono i morsi della crisi che ancora si fanno sentire. Cambiamo testata, rimaniamo però a Pesaro per il resto del Carlino perché allarme immondizia, allarme rifiuti, soprattutto nella stagione estiva si alza l'asticella, la zona presa in considerazione nell'articolo del Carlino è Viale Marconi e dice appunto Viale Marconi dove l'anarchia è di casa, zona bombardata con rifiuti a terra ed è quella appunto tra Viale Trieste e Viale Trento, vedete anche nella foto alcuni esempi e quindi bisognerà prendere provvedimenti a parlare, è l'assessore Andrea Biancani, il neoconsigliere eletto al Consiglio regionale. Entro luglio riasfalteremo quel tratto di strada ma nel 2016 rifaremo la strada e quindi la città che protesta e poi i timori, i timori per il troppo caldo sono quelli che possono riapparire, le mucillagini, sappiamo che gli sbalzi di temperatura creano questo fenomeno e non è sicuramente piacevole né per chi è qui in vacanza né anche per i gestori degli stabilimenti balneari. Ancora dalle pagine del resto del Carlino, pianeta sanità, si parla di sanità in questa pagina, pagina 4 del Carlino dove c'è in testa appunto l'articolo che riguarda la dialogi, un errore, spostare la dialisi a Fano, andavano trovati gli spazi al San Salvatore, Giannotti riapre la ferita, un anno e un tempo lunghissimo. E poi, dopo pagine dolenti, note positive perché il professor Bauer a Vienna è un luminare nell'ambito urologico, altri sling contro l'incontinenza, un'operazione, oggi ci saranno tre sedute in collaborazione col primario Valerio Beatrici per su malati operati di prostata, è un intervento all'avanguardia, Marche Nord si propone come centro pilota di una migliore qualità della vita, si chiama Atmos ed è uno sling regolabile per variare la compressione dell'uretere e quindi insomma migliorare la vita di quanti hanno questo grave problema. Quindi sanità all'avanguardia anche sulla nostra provincia e vi facevo vedere dalla pagina anche dell'altro giornale cosa è successo, la disavventura che è successa a un cinquantone che si è praticamente inabissato in un canale di scolo con l'acqua alta quasi alla gola, era una trappola mortale, insomma dopo ore e ore di tentativo è rimasto prigioniero in questo canale di scolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco però è stato portato in salvo e quindi scongiurate pessime conseguenze per questa vicenda. Cagli, siamo sulla viabilità, sulla Fano Grosseto ci sono dei lavori, scambi di carreggiata, grosse code, un semaforo dalle parti di Cagli e allora si torna all'antico, si va sulla Flaminia, auto dall'Umbria deviate però solo di domenica sulla vecchia strada però grandi disagi, chi l'ha dovuto percorrere in questi giorni ha visto di che cosa tratta questo articolo, anche gli incidenti ci hanno messo la sua perché i tamponamenti quando si fa all'elastico la possibilità di aumentare gli tamponamenti è elevata, quindi a Lucrezia c'è stato questo tamponamento che ha mandato in tilt appunto il rientro sulla Fano Grosseto, problemi di viabilità. La pagina che riguarda Fano, per quanto riguarda il resto del Carlino, Fano Urbino non accetto lezioni da Aguzzi a parlare del vecchio contro il suo ex sindaco, è uno che è sempre diviso, nell'articolo di Anna Marchetti tutta l'intervista all'ex assessore, schianto in moto è grave, un centauro è avvenuto ieri pomeriggio in via 4 novembre a Fano. Il calcio, sapete che il lunedì ci sono sempre le pagine di calcio, appunto guardiamo come è andata all'Alma Juve, Juventus che è stata tacciata di insaziabilità, ed è vero, Alma Juventus fanno 3, Delta Porto Tolle 0, i rodigini hanno subito alzato la voce, ma si scoprono e vengono trafitti senza pietà, come dice il giornale, il resto del Carlino. E quindi insomma ci si avvia verso i play-off, Alma Foss ha nientato il Delta, l'articolo perché è un articolo su due pagine, ve la faccio vedere, ecco l'altra pagina del Carlino, perché c'è comunque anche di spalla qui un articolo che riguarda il Presidente, Gabellini però non se la gode, ci si riferisce alla vittoria, non se la gode perché dice ci prendono in giro, il Presidente è sconcertato dal balletto di cifre che girano sui ripescaggi, si parla di 600 mila euro a fondo per tutto e 800 mila di fideiussione, insomma è un po' nebulosa la cifra e quindi il Presidente Gabellini non si gode appieno quest'ulteriore vittoria della sua Alma. Vediamo l'ultima testata che prendiamo in considerazione, è il Corriere Adriatico che è concentrato appunto su tre pagine, partiamo da Pesaro, appunto, urologia anti tre interventi all'avanguardia con il Dottor Bauer, il Professore Vienese, il progresso consiste nella possibilità per il chirurgo di variare in ambulatorio la compressione e questo migliora appunto la vita dei malati di questa patologia, sempre più frequente. Raffica di multe però è un taglio centrale per la sosta sotto monte, si parla appunto della sosta durante le ore di mare, auto dei bagnanti negli stalli per i ciclomotori e Pesaro Parcheggi gestirà anche l'ufficio turistico, l'estate al via, appunto, nuova estate, però, ahimè, vecchi problemi. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, sventola la bandiera blu, spiagge affollate, ma a Lido continuano le proteste dei residenti contro i vandali, il virgolettato, dicono, i vigili fanno solo le multe, anche qui al via l'estate e a Sassonia si raccontano le storie nate da Papa Fish, questa bella iniziativa che fa sì che nelle mese scolastiche sia presente il pesce, quindi per abituare i bambini a questo sapore, perché sappiamo che non sono molto amanti di questo cibo i bambini, allora, insomma, per avvicinarli pian piano, un'iniziativa che ha riscosso grande successo anno per anno. E allora, rimaniamo nell'ultima notizia, nessun rimpasto, parliamo di politica, politica che riguarda il comune di Fano, Seri, garantisce Barnesi e anche Paolini, quindi nessun rimpasto di giunta, l'irrigidimento di noi città contro il settimo assessore rende più difficile la soluzione delle dimissioni di Minardi. E questa era l'ultima notizia per quest'oggi, per la prima rassegna stampa della settimana di lunedì, grazie per essere stati in nostra compagnia questa sera, naturalmente, l'informazione torna con Occhio alla Notizia alle 20.30, ma durante la giornata, per essere sempre aggiornati sulle news, il nostro sito o la nostra pagina Facebook. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie a tutti.